E questo cos'è? Oh Sam, aiuto! Tieni duro! Super Sam ti proteggerà da tutto! Ti prego, dimmi che succede! Guarda, ho trovato un gattino! Teniamolo per favore! Oh, che carino! Sammy, dovremmo affidarlo a qualcuno! Giusto, micetto? Ma prima facciamolo visitare dal veterinario! Salta su, andiamo, gattino! Così scopriremo anche le sue origini! Ci servirà... questo! Andiamo! Dove inizia la storia del nostro gattino? Il libro lo racconta in dettaglio! Spazzatura! Controlliamo questa scatola! Forse è qui dentro? Apriamola! Eccolo il nostro protagonista! Tiriamo fuori il piccolo! Mi sembrava così triste, ho pensato di portargli un giocattolo! Prima lo dobbiamo nutrire e pulire! Qui c'è del cibo davvero buono! Riempio la ciotola! Hop, hop, hop! Wow! È proprio affamato! Oh, è così carino! Non posso! Sammy, ti prego, smettila! O anche il micio piangerà! Dai, asciughiamo quelle lacrime! Non piangere! Un altro dolcetto? Posso asciugare anche le tue lacrime se vuoi! Non lo dobbiamo per queste cose! Soffiati il naso! Bene! Puliamo tutto lo sporco che ha nelle orecchie! Le zampe devono essere sempre morbide e soffici! Ora puliamo gli occhi! Povero piccolo! È stato solo per tanto tempo! Tranquillo, Fluffy! È tutto finito! Ha proprio bisogno di vitamine! Come sta andando? Voglio provare anche io! È ora di lavare il gattino? L'impresa di pulizia incredibile! Sam è qui per aiutarti! Grazie, ma non ci serve una pulizia così drastica! Niente spazzolone! Basta usare i guanti! Aha! Ecco Roger il veterinario in azione! Questa pelliccia è così sporca! Presto puliamola! Non si notano subito! Ma potrebbe ospitare dei parassiti! Bravo, gattino! E ora è il turno del dottor Sam! Sì! Aha! Ah! Wow! Andiamo, Roger! Credo che abbia fame di nuovo! Il suo stomaco brontola! Nessun problema! Gli daremo di nuovo da mangiare tra un minuto! I gattini sono sempre diffidenti verso le medicine! Conviene mescolarle con il cibo! Mangia, gattino! Riprenditi! Ho portato della frutta! È piena di vitamine! Oh, sì! Beh, che abbiamo qui? I gattini non mangiano frutta! Mi piacerebbe averne un po'! Mmm! Mmm! Grazie, Sam! Ora, una bella lavata! Andiamo dal toilettatore! Oh, il gattino è già sul posto! Di solito non amano l'acqua! Ma questa è un'eccezione! Aggiungo dell'altro sapone! Per rendere il suo pelo pulito e setoso! In questo modo! Dovrebbe andare! Mmm! È l'ora del lavaggio! Posso fare il bagno anche io! Dai, spostati! Sammy, non puoi farlo in un bagno di carta! Laviamo via la schiuma! Hop! 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 Così! E risciacquiamo delicatamente con acqua calda! Bene! È ora di scattare qualche foto per i futuri proprietari! Ehi! È rotto qualcosa di simile? Sammy, ci serve un altro dispositivo! Di carta! Guarda! Forte! Stampo le foto e le metto su Sam's List! Se Sammy ci sta, troveremo presto dei nuovi proprietari! Che facciamo adesso? Ros, Ros! Apri la porta! I proprietari sono qui! Wow! Oltre ogni aspettativa! Ciao! Ecco un nuovo membro della vostra famiglia! Oh! Ciao, ciao! Prendetevi cura di lui! Ciao! Ci prenderemo ancora cura del nostro gattino nella sua nuova casa! Mettiamolo a suo agio! Passami gli attrezzi e preparati! Iniziamo! Cosa dice il gattino? Esatto! Miau! Scriviamolo sul lato anteriore! Roger, perché non mostriamo al gattino la sua nuova casa? Sarà felicissimo! Oh! Si sta già ambientando! Spero si trovi bene! Sam ti ha donato anche un campanello! Giusto? Adorabile! Rog, vediamo come realizzare uno di questi anelli libri interattivi! Certo! Restate con noi, amici! Wush! Wush! Beh... Oh! Eccovi! Ho già raccolto tutte le pagine! Hmm! Roger, quale sarà lo stemma della nostra clinica veterinaria? Sammy, il libro di fiabe parla di un gattino, giusto? Quindi ci vorrebbe la sua zampa sulla copertina! E questa sarà l'insegna della nostra clinica! Oh, fantastico! Aspetta, eh! Sì! Aha! Haha! Ho anche disegnato delle impronte di stampa! Che ne pensi? Fantastico! Andiamo a fare il nostro primo book spread! La scatola del gattino era in un posto orribile e pioveva di rotto! Guarda, stavano crescendo alcune piante! Roger, ma abbiamo deciso di mettere un contenitore per i rifiuti qui! Ecco perché l'ho portato! Ops! Non così tanto! Sammy, mi aiuti a pulire? Bene, ma l'ho fatto lo stesso! Ecco i sacchetti della spazzatura nella foto! Figo! Ok, è il momento di assemblare la cuccia! Molto carina! Rosa con dei ragnetti neri! Roger, è tutto pronto! Ho portato il gattino! Oh, passamelo! Resta lì, amico! Oh, non fare quella faccia! Ti tireremo fuori molto presto! Giochiamo a nascondino, che ne dici? Esatto! Torniamo subito! Roger, dobbiamo finire il resto di queste... Pagini! Certo! Se mi aiuti finiremo in fretta! Cosa abbiamo qui adesso? Guarda qui! Ho già fatto una ciotola per il cibo! Oh, grazie Sammy! Come farei senza di te? Mi aiuteresti anche a scegliere il cibo per gli animali? Mmh, annusiamolo! Ah, ah! Teniamoli entrambi! È vero! Perché scegliere quando si può avere tutto? Oh, mettiamone un po' nella ciotola! Useremo questo bastoncino per riempirla! Quasi dimenticavo gli stemmi della clinica! Oh, guardate che ho fatto! Che bel disegno! Mettilo in questa pagina! È molto bello! Ben fatto, Sammy! Troviamogli un posto migliore ora! Eccolo! Ora costruiamo uno scaffale per le medicine! So come fare a entrare i gattini! Ehi, da questa parte! Oh, fantastico! Vogliono giocare! Roger, cominciamo subito! Siamo pronti! Aspetta! Non abbiamo ancora finito! Restate con noi, ragazzi! Sto ultimando la sala visite! E qui ci sono gli strumenti medici! Se il vostro animale è malato, andate alla clinica! Ha tutto ciò che vi serve! Ho deciso di accelerare e di fare un'intera pagina da solo! Ottimo! Io preparo le medicine! Tu puoi chiamare i gattini! Cari pazienti, mettetevi comodi! Passiamo alle altre stanze! Ora ristruttureremo il bagno! Hai bisogno di un po' di bollicine? Prepariamo il cavalletto per il servizio fotografico! Questo è il mio genere di sfida! So come farlo risaltare! Spostati! Allora, scattiamo qualche foto! Che ne dici? Questo è un posto unico! Allora, Roger, qual è il prossimo passo? Manca ancora una parte della storia! Vediamo! Questa è la pagina in cui incontreremo i futuri proprietari! Ehi, devi nasconderti, Roger! Chiudi la porta! Facciamo così! Ecco! Ecco! Tutto a posto! Sammy, che facciamo adesso? Ti ricordi? Aspetta, Roger! Ho un vuoto di memoria! Oh, che facciamo? Pensa, Roger! Pensa! Beh, possiamo fare una foto di me e del mio mochu! Oh, aspetta! E vai! Ho una soluzione! Ora possiamo voltare pagina! Creiamo un bel finale per la storia! Primo, mettiamo qui il nostro bel gattino! Ecco! Tutto pronto per un pranzo delizioso! Ma hai anche un po' di spazio per me! Mi piacerebbe restare! Allora, prenotati come ospite! Amici, è il momento di goderci il risultato! Quando sono freddo, mamma mi 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 portate a casa un bel gattino randaggio eccolo qui signorina tutto suo Sammy guarda il primo candidato facciamoli incontrare è così carino la voglia voglio questo per favore posso averlo sono esausto è così difficile aiutare con le adozioni sto mettendo alcuni cani randaggi in buone mani sei con me? hai detto canio amici piaciuta la storia del nostro gattino? dateci un like e ci vediamo presto ciao ciao ciao